benvenuti a una nuova puntata di legal corner l'ultima puntata dell'anno e la dedichiamo all'ultimo numero di le fonti legal andando a vedere i principali contenuti che sono emersi l'ultimo numero di questo 2020 quindi insomma i contenuti interessanti sono molteplici partiamo dalla copertina che abbiamo dedicato all'avvocato fulvio di domenico managing partner di genesis avvocati che sottolinea in particolare come in questo momento così complicato che stiamo vivendo l'avvocato e la consulenza legale di conseguenza assuma un ruolo sempre più strategico per le imprese andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è emerso dall'intervista che ha rilasciato l'avvocato di domenico che si è concentrato su diversi punti importanti vediamo un estratto e andiamo a leggerlo il supporto legale afferma di domenico deve porre l'impresa nella condizione di conoscere e valutare l'ambiente in cui opera per accertare che il proprio prodotto o servizio oltre a rispondere alle aspettative chiaramente del mercato di competenza non trovi degli ostacoli e dei limiti regolamentari oppure non si imbatte in fattori esogeni che ne rendano chiaramente meno competitivo l'acquisto o addirittura ne limitino l'utilizzo questa è una frase diciamo chiave che rende bene l'idea di quanto in questo momento l'avvocato assuma un ruolo sempre più importante e strategico al lato e a fianco dell'imprenditore per fare in modo che le scelte di mercato siano quelle più corrette bene andiamo oltre perché come potete vedere abbiamo dedicato una copertina interna agli avvocati agli studi legali del 2020 abbiamo selezionato le operazioni più importanti che sono della rivista un vero e proprio calendario da gennaio a dicembre delle quattro operazioni per ogni mese più importanti i volti che vedete in questa copertina interna sono chiaramente i volti degli avvocati che hanno seguito le operazioni più importanti ma come possiamo vedere nel grafico successivo abbiamo stilato anche il ranking degli studi legali più attivi e sono emerse diverse sorprese a partire dalla prima posizione che spetta lo studio legale clifford chance e al secondo posto troviamo alle endoveri sono due studi legali come tutti sappiamo di stampo anglosassone che appartengono al cosiddetto magic circle londinese e che occupano appunto le prime due posizioni della nostra classifica sono studi specializzati in particolare in ambito banking in ambito finance e capital markets lato depth e da quanto è emerso rispetto al nostro approfondimento sono effettivamente i settori dove si sono concentrate le operazioni più importanti di questo anno mentre chiaramente è cominciata diciamo così la discesa del settore dell'emenei. Trovate ovviamente altri approfondimenti noi ora ci concentriamo proprio su una riflessione su quale sia il tipo di struttura di studio legale che in questo momento sembra reggere meglio alla crisi come possiamo vedere nel nostro editoriale esatto lo studio multi service con una struttura snella è proprio questa la struttura tipo deve emergere anche chiaramente una forte specializzazione una forte identità in determinate aree strategiche che chiaramente sono quelle che che potrebbero comunque che sono e che stanno resistendo alla crisi e parliamo appunto degli studi di cosiddetta media dimensione sono quegli studi che giusto alla fine dell'anno passato abbiamo etichettato come quelli che sembravano soffrire maggiormente le mutazioni e l'evoluzione del mercato legale ma quest'anno che è stato un anno chiaramente molto particolare stanno riemergendo a soffrire invece sono gli studi legali diciamo così multinazionali del diritto un esempio per tutti è Bonelli Erede che giusto un anno fa ha fatto l'operazione più eclatante degli ultimi anni del mercato legale acquisendo una buona parte dello studio Lombardi Segni che è uno studio ovviamente al top e creando una struttura appunto che viene definita multinazionale del diritto e che però a conti fatti guardando anche al nostro ranking è una soluzione che al momento non sta pagando a pagare il prezzo della crisi anche altri grandi studi come lo studio legale Gianni Eurigoni che ha perso un pezzo molto importante della propria struttura Roberto Cappelli che è passato nello studio legale RCCD che si sta affermando definitivamente sul mercato legale e a pagare il prezzo chiaramente saranno le boutique specializzate in quei settori che stanno soffrendo che soffriranno maggiormente gli effetti di questa crisi in un anno che speriamo appunto il 2021 sia decisamente diverso dal 2020 bene non mi resta che farvi gli auguri di buone festività da parte mia da parte di tutta la redazione di Le Fonti Legal e darvi appuntamento al prossimo anno e augurarvi soprattutto un buon 2021 Grazie a tutti